Ci sono un derby salvezza, una vetta da puntare ancora, un ultimo posto da salutare, una zona playoff da riconquistare. Missioni sparse sul vasto territorio del girone C di Serie C per Pugliesi e Lucane nella ventottesima giornata di campionato, in agenda in un lungo fine settimana con coda a lunedì sera. A rubare l'occhio tra i match in programma c'è il derby Virtus Franca Villa-Monopoli. In uno dei quattro Monday Night in agenda alle 20.45 saranno a confronto formazioni separate da un solo punto, 23 quelli del Monopoli, quart'ultimo, 22 per la Virtus terz'ultima e accomunate dalle stesse difficoltà. Entrambe non hanno mai trovato continuità di risultati in stagione, entrambe sono passate per rivoluzioni tecniche. La Virtus ha richiamato dieci giorni fa Villa per Occhiuzzi, subentrato a sua volta a metà novembre. Il Monopoli ha avvicendato Tomei con Taurino e ora devono correre il più possibile per tentare di tenere a distanza la retrocessione diretta, rappresentata dai 17 punti del Brindisi, e guadagnare posizioni in griglia play-out, con la salvezza al momento incarnata nei 32 punti di foggia e potenza. Nello specchietto retrovisore delle due squadre c'è una sconfitta di misura, 0-1 con i latinal-veneziani per il Monopoli, 1-0 a potenza per mano del Sorrento nel caso della Virtus. A catalizzare le attenzioni domenicali è invece il Brindisi. La settimana dell'addio con Giorgio Rosselli ed il ritorno di Ciro Danucci in panchina si concluderà al pinto, contro una casertana in piena zona play-off, ma insensibile frenata, con una sola vittoria nelle ultime sette partite giocate. Bunino e compagnano nel Mirino il Monterosi penultimo, oggi distante due punti, e cercano una vittoria assente dalla diciassettesima giornata, fischio d'inizio alle 18.30. Allo stesso orario si gioca a potenza Giuliano, con i ragazzi allenati da Marco Marchionni, chiamati ad accorciare il gap di sette punti dal decimo posto, il primo valido per i play-off, oggi occupato dai giallo-blu campani. Quattro ore e mezza prima, alle 14, il Picerno secondo della classe farà visita a un Messina che ha interrotto con il K.O. di Giuliano un percorso netto di cinque vittorie e un pareggio nelle precedenti sei partite. Il team di Emilio Longo è chiamato invece a riscattare il bruciante K.O. interno in rimonta con il Benevento, risultato che non ha però alterato le distanze dalla vetta. Grazie a tutti.